Ciao ragazzi, il make up che ho realizzato oggi, come vedete, è un make up sui toni del verde, del blu, del blu scuro, c'è un po' di lilla ed è un trucco ispirato ad una splendida farfalla di cui vi metterò la foto qui nel video. L'idea di ispirarci a questo trucco è venuta ad una ragazza bellissima, davvero simpaticissima qui su Youtube, il suo nickname è il 11 con E7, Veronica. Ho usato tutti quanti i colori che sono i colori delle ali di questa farfalla ed è venuto fuori questo trucco, sicuramente un trucco serale, un trucco molto intenso, a me però onestamente piace tantissimo. Io ho realizzato questo trucco qui e invece Veronica ha realizzato un trucco artistico e davvero quando mi ha inviato la foto del suo trucco sono rimasta a bocca aperta perché è di una bravura impressionante, ti invito a visitare il suo canale perché non rimarrete sicuramente deluse. Voi direte, ma quando fai un trucco naturale per andare a fare la spesa, ragazzi sarà uno dei miei prossimi video insieme ad altri video un po' più basic. Spero tanto che il look vi piaccia, ovviamente fatemi sapere, non li lascio alla realizzazione nel video. Allora, come base vado ad applicare un correttore ed utilizzo Boehm di Benefit. Potete utilizzare ovviamente qualsiasi correttore. Come primo colore vado a prendere un color lilla ed utilizzo questo qui che è un ombretto di Essence, il numero 03. Lo prendo con un pennellino piccolo, questo è di Zoeva e lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio. A questo punto vado a prendere la palette Sleek Original e vado ad applicare questo verde qui. Con questo pennello qui, che è di Neve Makeup, vado ad applicare accanto al mio primo colore sovrapponendomi anche adesso sulla palpebra mobile. Ok, sempre con lo stesso pennello vado a riprendere l'original, prendo questo azzurro qui e lo vado a mettere accanto al mio verde. Sto rapponendomi anche un pochino adesso. A questo punto vado ad applicare un po' di scotch alla fine del mio occhio. Lo vado a prendere questo colore qui, blu, con un pennellino a penna, questo è il pennello pencil di Zoeva. Lo vado a mettere, vado a mettere questo blu accanto al mio azzurro, portandolo ovviamente anche questo verso l'azzurro, vado a prendere questo ombretto blu minerale, che è un blu molto tutto scuro, ed è il Camden Town di Neve Makeup, della collezione London. Lo prendo con questo pennello qui, sempre di neve, e lo vado a mettere proprio all'esterno, dove abbiamo messo lo scotch, qui, e lo picchietto. Rimuovo lo scotch delicatamente. A questo punto porto lo stesso ombretto blu, con un pennello piccolino, questo è di finire, sotto, porto sotto le ciglia inferiori, all'esterno, riprendo il verde, lo vado a mettere accanto, e verso il blu. A questo punto pennello da sfumatura, utilizzo questo di Zoeva 227, e vado a sfumare. A questo punto, sotto l'arcata sopraccigliare, vado ad applicare questo illuminante qui, di Kiko, lo vado ad applicare proprio sotto l'arcata sopraccigliare, portandola verso il basso. Vado a mettere questa matita qui, che è di NYX, la Black Bean, matita nera, vado a mettere all'interno dell'occhio, e sopra, un po' di eyeliner. Applico il mascara, il false lash effect, sia sulle scine superiori che quelle inferiori. Visto che gli occhi sono super intensi, sulle guance vado un pochino più leggera, vado ad applicare questo blush qui, che è di ELF, linea base, spero di pronunciarlo bene, Koi, il soft nude. Sulle labbra vado ad applicare un semplice rossetto nude, e vado ad applicare questo che è il soft nude, questo che è il soft nude di Revlon. Niente ragazzi, questo era il look finale, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e alla prossima! a